Una buona notizia riguarda l'avvertenza Whirlpool. È intervenuta un'azienda T-Tech Group napoletana che rileva i 300 lavoratori di Whirlpool. È un intervento che si realizza perché abbiamo inserito Whirlpool nella ZES di Napoli. Si stava lavorando già da settimane con il commissario alla ZES, Giosi Romano, che mi aveva informato ovviamente da settimane di questo lavoro che era in corso. Essendo Giosi Romano commissario ZES, indicato dalla Regione Campania. Come vedete, noi indichiamo persone responsabili a incarichi significativi che hanno efficienza operativa. Dopo settimane di lavoro, l'intervento sulla Whirlpool si è concluso e dunque salviamo 300 posti di lavoro. è un'azienda T-Tech Group napoletana. Grazie.